Non solo alberi e presepi, a Natale a Fano si accende anche la cultura. Esposizioni, visite guidate, laboratori e musica vanno infatti ad arricchire il cartellone degli eventi natalizi della città della Fortuna. Dal 16 dicembre fino a tutto gennaio il Palazzo Malatestiano e il Museo della Flaminia situato al Pincio torneranno a essere di nuovo protagonisti. Il Museo del Palazzo Malatestiano si apre per Natale alla città e ci saranno dei concerti, ci saranno dei laboratori per bambini, ci saranno delle visite guidate per gli adulti e per i bambini. Una serie di iniziative per far riscoprire e rinvitare la città di Fano dentro il museo che è un luogo prezioso e importante della nostra città. Quest'iniziativa rientra dentro Natale Più in collaborazione con l'assessore Lucarelli e con il resto delle iniziative della città. Quindi anche il museo doveva fare la sua parte. Al cuore dell'iniziativa vi è l'idea che l'arte non sia soltanto qualcosa da osservare, ma un'autentica esperienza da vivere. Anche attraverso il gioco, grazie alla collaborazione con la Pandolfaccia e alle cooperative Gradara in Nova e Meridiana. Noi abbiamo organizzato come assessorato alla cultura e come assessorato alle biblioteche una serie di iniziative a corollario della mostra sui registri malatestiani che si inaugurerà il 16 di dicembre. Si tratta di otto appuntamenti che rientrano nel Grand Tour Cultura a cui la Regione Marche ci ha invitato a partecipare. Il titolo di quest'anno è Mettiamoci in gioco, quindi un invito a proporre la cultura in tema giocoso, mai leggero ma comunque scherzoso, adatto ad essere vissuto da tutti e in primo luogo dai bambini. Per questo come assessorati alla cultura e alle biblioteche e in collaborazione con l'archivio di Stato abbiamo organizzato questa serie di iniziative che partiranno il 20 di dicembre. Si tratta di visite e di laboratori e di visite guidate anche a cura dei nostri funzionari. L'arte è anche musica e la musica è anche arte. Per questo sono previsti quattro appuntamenti con musicisti di primo livello, tra gli altri anche il vibrafonista fanese di fama internazionale Marco Pacassoni. Termineremo tra la fine dell'anno e l'inizio del mese di gennaio con quattro concerti molto importanti perché vedono per la prima volta la presenza all'interno del museo di strumenti. Con l'iniziativa appunto a cura del Fano Jets Network risuona nei musei. Un vero e proprio invito al museo dunque a vivere il tempo del Natale probabilmente più rilassato e libero tra le ricchezze del patrimonio culturale fanese che necessitano di un nuovo slancio e di una ritrovata attenzione. Musica, laboratori, cultura sono cose che vanno insieme e sono importanti per questo Natale 2022. L'aspetto culturale è un aspetto che definisce chi siamo, la storia che abbiamo avuto, quindi a Natale è un momento in cui siamo sempre di corsa ma allo stesso tempo apriamo i nostri cuori e siamo attenti. È bene ricordare chi siamo e è bene anche riconoscere i capolavori che hanno fatto parte della nostra storia, quindi vi aspettiamo. Grazie. Grazie.